Il bonus animali 2023 consiste in una detrazione fiscale accessibile in dichiarazione dei redditi e può essere utilizzato per un massimo di spesa pari a 550 euro e possibile rivolgersi ad un CAF oppure a un consulente fiscale o autonomamente presentando domande online per il bonus animali domestici all'agenzia delle entrate. Le spese che rientrano nel bonus sono farmaci, visite, specialistiche, chirurgia d'urgenza e costi per le spese veterinari devono essere certificabili tramite sistemi tracciabili e verificati.